Oggi come sede della nostra protesta abbiamo scelto la sede del Messaggero, il Messaggero che è il primo quotidiano di Roma e il più venduto nella capitale. La nostra protesta viene avanti ormai da circa un anno e mezzo contro il silenzio dell'amministrazione capitolina guidata dal sindaco Gianni Alemanno per la rotazione del intermunicipale ogni tre anni nei vicini urbani per garantire trasparenza e imparzialità nel aspettamento delle funzioni come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Sono troppi ormai illeciti commissioni connessi perpetrati nell'elemento del proprio dovere da dipendenti degli uffici tecnici comunali e da appartenenti alla Polizia Municipale. ed è una lotta da cui non si può prescindere da una proposta che deve essere pagliata con un tavolo di concertazione. Alemanno circa un anno fa, dopo il nostro incontro con il vice comandante di Autoporta, che a nome dell'accomandante generale Angelo Giuliani ci diede disponibilità per una rotazione, che dimostrò apertura verso la nostra proposta di rotazione, abbiamo chiesto l'incontro con Gianni Alemanno, che ha demandato tutto a Enrico Cavallari che era assessore al personale del Comune di Roma. Ancora da un anno aspettiamo una risposta e abbiamo deciso di intraprendere questa serie di incatenamenti, questa serie di proteste eclatanti in vari siti della capitale, istituzionali e di informazione. E oggi, ripeto, abbiamo scelto il messaggero perché rappresenta l'informazione principe sul Roma della nostra città che purtroppo è disseminata illeciti e omissioni da parte di alcune melematrice di questi alcuni comparti lavorativi e professionali, di diversi comparti istituzionali. L'apparato istituzionale non può assolutamente essere infestato da situazioni di corruzione in un momento in cui il Governo, con proclami incredibili e altisonanti, sta parlando di corruzione della pubblica amministrazione. Non possiamo assolutamente accettare questo tipo di comportamento e noi pensiamo che il trasferimento periodico intermunicipale sicuramente potrà favorire una situazione di non collusione sul territorio da parte dei dipendenti della Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici e comunali. Questa è una lotta che a questo punto il Sindaco Le Manno deve darci assolutamente retta, deve assolutamente ascoltarci perché non si può assolutamente prescindere, lo ripeto, assolutamente prescindere da questa situazione. Le melemarce devono essere estirpate dalla Polizia Municipale e dagli uffici tecnici comunali anche per garantire lo stesso corpo della Polizia Municipale e questi uffici stessi perché per salvaguardare l'immagine anche di tanti, della maggioranza poi di questi dipendenti che sicuramente svolgono il proprio lavoro con abnegazione e senso del dovere. Perciò, e questo va soprattutto anche al vantaggio dei cittadini che secondo l'articolo 3 della Costituzione sono tutti uguali davanti alla legge e cioè non possono essere favoritismi, sono tutti a indolature di poche rimedie macchie. A questo punto riteniamo l'arministrazione municipale, la giunta capitolina, sindaco Le Mani, complici politicamente, responsabili politicamente di eventuali compromissioni di gilubani e dipendenci di questi comparti lavorativi, ripeto, di questi apparati, di questi uffici in situazioni illecide di coperture, omissioni o reati penali veri e propri. Grazie.